A meno di clamorose sorprese dell'ultimo istante, sarà Lamberto Zauli il prossimo allenatore del Teramo. Il tecnico che quest'anno ha guidato il Sant'Arcangelo, penalizzato ad una salvezza insperata, è l'uomo scelto dal sodalizio di via Oberdan per sostituire Vincenzo Vivarini. Una carriera da calciatore di assoluto livello, una da allenatore ancora tutta da costruire per il 45enne, ex trequartista di Vicenza, Bologna, Palermo in Serie A. Massima serie a cui però Zauli arriva tardi dopo una lunga trafila in provincia. Molta serie C dal 2009 in poi, quando, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Zauli si trasferisce a bordo campo e si siede in panchina. La prima esperienza con il Bellare e Giamarina. Poi Fano, Reggiana, il ritorno a Vicenza, la sponda reale, Pordenone e infine Sant'Arcangelo. Raccoglie una squadra comunque fiaccata da sei punti di penalizzazione, ma riesce comunque a raccogliere 39 punti, grazie soprattutto alle 12 reti dell'ex Chieti Marco Guidone, punto ormai ad essere un bomber di categoria. Non solo lui però, perché i romagnoli hanno potuto contare sulle incursioni di Francesco Margiotta e le invenzioni di Dario Venitucci, due che potrebbero entrare nell'orbita bianco-rossa nel prossimo mercato estivo. Nulla da fare dunque, a quanto pare, per Fulvio Pea, che negli ultimi giorni sembrava il principale rivale di Zauli per sedersi sulla panchina del diavolo. Invece, specie nelle ultime ore, era stato sorpassato anche da Leonardo Colucci, tecnico della Primavera del Bologna. Con Zauli il Teramo fa una scelta ben precisa, affidarsi ad un tecnico giovane pronto a lavorare per un progetto non a brevissima scadenza. Nelle prossime ore Zauli potrebbe arrivare in Abruzzo per limare gli ultimi dettagli di un accordo che sembra praticamente fatto. Poi inizierà il mercato per il rafforzamento della squadra bianco-rossa. Questione di ore, ma sembra proprio che a Teramo stia per iniziare l'era targata. Lamberto Zauli. Grazie.